La pace e la grazia e l'amore del Padre in Cristo Gesù sia per tutti quanti noi. Amen. Bene, di che cosa dobbiamo parlare? Il titolo è Fiume della vita. Voi conoscete il fiume, no? Il fiume è fatto di acqua, che scorre, vi dicevo. Apriamo la Sacra Scrittura in Apocalisse 22, 1. Poi dimostrò il fiume duro, del lato della vita, limpido come cristallo, che sta diventando l'amore del Dio e della lingua. Quindi vediamo un fiume, fiume della vita che scattuisce la vita eterna. Però noi, in questo monto, abbiamo dei fiumi che scorrono via, vanno via. Dice, quando segue dall'alba al tramonto, mi chiedo, che devo fare per essere figlio di Dio? Una voce mi ricorda che con il battesimo sono diventato un figlio di Dio. Mi sono trovato sulla riva di un fiume e, osservando l'acqua che scorreva, l'ho paragonata alla mia vita. In tempo, concessome, che scorre rapido, mi sono chiesto, riuscirò nella mia vita a sorrispare i piani di Dio e i programmi che Dio ha fatto per me? Perché la nostra vita è come fiume. Il fiume scorre. A parte il fatto che scorre, quando scorre, non scorre mai da solo. Ci sono tronchi, secchi, rami spezzati, pesci morti, poi ci sono fiori tagliati, recisi. Tutto simbolo del fiume. Nell'arco della vita cristiana, la vita è fatta come un fiume. Non è dolce, fiori, così così. La vita è come un fiume. Nei fiumi ci sono parecchie difficoltà, parecchie cose buone, parecchie cose male. Infatti, cosa succede? Alzo gli occhi al cielo, vedo una nuvola che corre. Quando ci si vede una nuvola, cosa si vede? Si vede esattamente cose buone e cose brutte. O piove, non piove, mi seguo. Torno a casa, cerco in modo di vedere, non so, internet, televisore, o non tirando mai notizie buone. Tutte notizie errate. Ma lei è qua, ma lei è qua, che uccide il figlio, che uccide la madre, non ti danno mai notizie buone. Allora, andando avanti con la Sacra Scrittura, dice, quando dice, Ho pregato Dio di darmi un messaggio adatto alle mie difficoltà e risposte. Questo perché nella Bibbia ci sono, nel Nuovo Testamento, sette fasi in cui l'uomo si sono così sognati. Sogni che Dio ha dato ai suoi figli, della quale quattro gli ha dati a Giuseppe, in tutto sono sette, e tre, in vari, non so, Pietro, Giovanni, vi seguono, sono sette in tutto. Comunque quattro soltanto a Giuseppe. Dice, Ecco Giuseppe, il falegname, che viene a sapere che la sua dolce fidanzata è in città. O era un uomo. Quindi, per conseguenza, dice, Ma vi rendete conto dell'imparazzo che ha avuto Giuseppe? Sapendo che la fidanzata era in città. Ma io l'ho fatto nulla. Come mai in città? Ma valla a dire alle persone. E' un ragionamento umano che l'uomo si fa in sé per sé. Dice, Mentre stava ancora pensando, questo è scritto in Matteo, Una notte, sognando nel sogno, gli apparve un angelo del Signore che gli disse, Giuseppe, discendente di Davide, non devi avere paura di sposare Maria. La tua fidanzata, il bambino che lei ha, è opera dello Spirito Santo. Giuseppe, essendo un uomo, essendo così, si è fatto questa domanda, dice, Con tutto rispetto per l'angelo del sogno, Giuseppe aveva pensato, a quello che dirà la gente, come potrà mai lui amare il figlio che non è suo? Come potrà continuare ad avere fiducia in quella donna infedile? E' l'umano ha ragione in questo modo, no? Comunque, può concludere di dover rubire al sogno. Si è appena riavuto dallo shock della nascita del bambino che un altro sogno gli viene ordinato a fatto, è un fatto assurdo. Questo perché? Dice, sempre in Matteo capitolo 2, versetto 13, dice, dopo la partenza dei sapienti Giuseppe i sapienti sarebbero il re Magino Giuseppe fece un sogno l'angelo di Dio gli apparve e gli disse alzati prendi il tuo bambino e tua madre e fuggi in Egitto e Rone sta cercando il bambino per ucciderlo tu devi rimanere là fino a quando io non ti avrò avvisato. Ma vogliamo scherzare? Nemmeno il tempo diciamo se di un di un proposito mi arriva un altro questo sempre umanamente parlando perché questo storico si collega anche per quanto riguarda la scuola del sabato dice come poteva Giuseppe lasciare la sua fallegnameria i suoi clienti i parenti i amici andare in un paese sconosciuto e senza mezzi finanziari? cosa avrai fatto in questo arco quando hai sognato? cosa avresti fatto? dice avete seguito un semplice sogno che fu dato a Giuseppe nel senso che Giuseppe aveva avuto questo sogno però io se per sé dopo questi orni cosa avrei fatto? avrei pensato avrei detto alcune cose comunque Giuseppe si alzò di notte prese con sé bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto c'erano c'erano mezze macchine pullman treno non c'era niente c'era soltanto diciamo un quadrupede un asino dove c'era la moglie e il bambino appena parto di dice per obbedire cosa al sogno che dici tu Giuseppe si adatta a cercare casa degli amici clienti soprattutto l'Egitto appare un paese ornitale dice ma non fu il tempo di mettere radici che ecco un altro sogno dopo la morte di Rose un angelo il Signore apparve in sogno e Giuseppe in Egitto l'angelo gli disse alzati prendi il bambino e sua madre e torna con loro nella terra di Israele perché ormai sono morti quelli che ti cercavano e soprattutto ti fa morire il bambino questo è scritto sempre in Matteo 19 Giuseppe come uomo normale deve aver pensato a mille obiezioni si era ambientato il bambino e sua madre si trovano bene visto il rendimento ritorno forse non era necessario questa pucca perché mi sono fatto già i clienti ma che faccio lascio tutto e me ne faccio un'altra volta a mio peso cioè comunamente è così si ragiona in questo modo Giuseppe si alzò pregse con sé il bambino e sua madre e ritornò nella terra di Israele Matteo 2 21 non si era ancora riposato nel viaggio ed ecco quel che succede dice ma venuto a sapere che a posto di Erode era diventato re della Giudeia suo figlio Archealao dice ebbe paura di fermarsi in quel luogo in quella regione e diciamo si è informato era un segno partì allora verso la Giudeia cioè lasciò la Galilea per andare alla Giudeia Giuseppe non obietta a questioni dell'angelo da storia dice Giuseppe ha fiducia perché vede realizzarsi una profezia qual è questa profezia? che è nato Gesù il Messia che è nato Gesù come salvatore dell'umanità quindi Dio spesso ci appare distante e astratto grazie all'esperienza di Giuseppe il Dio è con noi Cristo è con noi dice la storia del Faragname ha cambiato il corso dell'acqua del fiume che è la mia vita la vostra vita è bello anche immaginare che il tavolo dove si fa la Santa Cena l'ha costruito il padre di Gesù era un Faragname quindi per immaginazione pensiamo che l'avrebbe anche costruito anche lui allora andiamo andiamo avanti in questo sogno dice un racconto una zona desertica del Madagascar ebbi sete e non aveva più acqua scavai sotto una certa pianta come avevo visto il padre e subito si formò una piccola conca con l'acqua anche se piena gli insetti la stavo portando alle labbra quando poi una farfalla ci si mette davanti e io per calciare la farfalla l'acqua mi cascata dice l'acqua mi cade per lasciarla questo avvenne per ben tre volte senza riuscire a uccidere la farfalla per ben tre volte guardai la conca e notai che la farfalla era nell'acqua che si dibatteva poi si era lasciata andare morta capì che l'acqua era avvelenata questo l'ho capito dopo Dio cosa ha fatto per noi ha mantenuto ciò che aveva promesso Giovanni 3,16 ha scritto questo che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio il suo Lugenito la perla più preziosa che c'era nel cielo affinché noi avessimo una vita eterna quale amore ha avuto il padre per me per voi per l'umanità ha preso la perla più preziosa che c'era nel cielo e me l'ha data ce l'ha data gratuitamente non abbiamo pagato nulla era tutto gratuitamente dice un altro racconto uso spesso la matita questo è vero la matita si usa per scrivere per prendere appunti poi magari si cangela comunque a parte ciò andiamo avanti dice uso spesso la matita per scrivere appunti mi piace perché con pensieri che posso cangela e posso mettere dice una donna questo è un racconto una donna stava scrivendo quanto il nipotino le chiese stai scrivendo qualcosa per me gli chiese alla donna se sto scrivendo qualcosa su di te rispose sto scrivendo qualcosa la risposta fu affermativa la nonna fece notare al piccolo più delle parole che era importante della matita che scriveva ed ecco perché la matita è importante dice la matita non fa nulla se non v'è una mano che la guida se non viene guidata la matita rimane lì però quando la prendiamo e scriviamo scriviamo ciò che abbiamo dentro dice una matita non può allora ogni persona è come una matita e se l'amore che lo guida scriverà parole si opprime ed è efficace nel senso che la scuola di sabato di sabattina di chi parlava parlava dei cristiani parlava di Dio parlava del mondo quando io ho una matita nelle mani cosa penso così scrive bene ciò bene male ciò dipende tutto da ciò che si ha nella mente dice la matita si consumava e si deve ricorrere al tempera matita che fa male ma il tempera matita è necessario anche se fa male perché senza tempera matita non scrive non scrive più deve accettare di essere resa capace e soffrendo perché la vita il fiume quando cammina non è mai liquido cioè non è mai ci sono gli alberi ci sono i giochi c'è tutto quindi questo non è altro che la vita cristiana dove ci sono gli intoppi però con l'aiuto il Signore si fa avanti dice scrivendo con la matita si permette di usare la gomma per correggere eventuali errori sto scrivendo sbagliato prendo la gomma e cancello poi ancora dice la parte migliore di una matita non è parte esterna ma è quella interna infatti la mette in infatti con mina o grafite è quella interna anche se viene pulita però quella che scrive è quella che si vede all'interno così anche il nostro cuore non è quello all'esterno ma è quello all'interno dice ancora la matita lascia sempre un segno fai attenzione a ciò che dice e fai quindi questo è ciò che fa la matita questo è ciò che fa il cuore umano dice ancora grandi artisti ci hanno lasciato i segni fatti a matita questo è vero ci sono dei disegni che sono fatti con la matita dice viene coperta con una vernice che rende il disegno incancellabile così è perciò che buone facciamo nel nostro occhio sono ricoperte dallo sguido santo e rimangono come prova dell'eternità noi siamo una lettera aperta noi siamo una matita ciò che facciamo ciò che scriviamo per conseguenza viene scritto sul libro celeste possiamo cancellare quando sbagliamo però poi dobbiamo ritornare sempre a Cristo Gesù dice ancora noi non siamo delle penne a ringostro incancellabile perché la penna a ringostro si fa se tu provi a cancellare non cancella rimane così però la matita si può cancellare dice ma come una matita che possiamo rimanere nel tempo se rivestiti in un mando protettivo dice ancora per quanto riguarda questo è un racconto dice ho imparato pagando salato l'imprudenza di far conoscere per quale si addestrati ecco 10 regole per quanto riguarda di come si deve comportare dice scegliere con cura senza ostacolare l'opinione degli altri perché sei tu che lo devi fare la salvezza com'è? è personale non è che un altro mi può aiutare no la salvezza è personale sapere prima come affrontare l'ostacolo prima dobbiamo sapere Giacobbe nel momento in cui doveva andare nella Canaan cosa ha fatto? doveva incontrarsi con il fratello il fratello andava con 400 uomini tutti di battaglia però Giacobbe sapeva che si doveva incontrare con il fratello e allora ha prevenuto prima di come si doveva comportare adesso punto imparare nell'esperienza altrui perdonare come Cristo padre perdona loro perché non sanno quello che fanno Cristo ha sempre perdonato e poi in questo quarto i pericoli che sono gestibili si affrontano con consapevolezza umiltà fiducia in Dio bisogna avere fede la fede in Dio se non si ha fede non si può andare avanti non posso dire io faccio tutto da me io faccio io forza questo e quell'altro però bisogna sottomettersi a Dio il quinto punto non lasciarsi ristrarre da ciò che ci conta fissando lo sguardo sull'obiettivo è continuare dice guardate in alto dove sta Cristo cioè il cristiano deve sempre guardare in alto mai in basso ma in alto il stesso punto rispettare i limiti del corpo la fretta può causare un eserimento e un eserimento quindi bisogna andare sempre cauti non essere frettolosi il settimo punto ascoltare la propria anima non dire non dire mai il compito è troppo alto non ce lo farò mai oppure ma che vuoi che sia io riesco sempre no bisogna mettere qualsiasi cosa sempre la mano è colui che guida l'uomo è colui che guida il cristiano poi dice ancora il nono sia allegro e ringrazia Dio quando raggiungi un obiettivo non sono io ma è Dio un'esperienza questa l'ha fatto due o tre anni fa non so una cosa del genere in chiesa a Martina siccome c'era la porta che arrivato ad un certo punto non si apriva e non si chiudeva cosa devo fare? non ci riesco niente perché la porta è pesante non so se la porta è ingresso c'è lo specchio il vetro così con i ferri dentro comunque a parte ciò non riuscivo l'ho tolta ho messo gli anellini ma non riuscivo a impilare ma che farà posto quella sera doveva che faccio chiamo mio figlio vieni se mi aiuta a infilare la porta ma guarda papà io sto da un amico sto facendo questo e quell'altro magari fra mezz'oretta che devo fare? è stato Cristo che mi ha dato un pensiero c'è un cartello un martello è un calciavite allora il martello sotto la porta è un calciavite ho preso la porta l'ho messo andava proprio per l'altezza giusta una volta che è andata l'altezza ho preso la porta ho tolto un martello ho tolto in giro a vite e la porta è sembrata questo cosa significa? che prima ci ho fatto una preghiera quindi è lo Spirito del Signore che mi ha dato l'opportunità di poter così mettere la porta a proprio posto dice ancora decimo punto racconta la tua esperienza positiva o negativa che sia molti la trarranno trarranno il bene quindi l'esperienza vengono sempre raccontate dice come corre il fiume della nostra vita? questa è una domanda che ognuno di noi ci deve propondere il fiume come corre adesso lo vediamo stiamo parlando del 1844 perché anche di voi la conoscono questa esperienza questa storia diciamo chiamiamolo la storia dice una pioniera chiamata Helen Goldwhite anche lei ha fatto un sogno anche lei dice cerchiamo un po' di comprendere ciò che effettivamente dice questo sogno a ognuno di noi infatti è scritto in seconda corinzi capitolo 4 versetto 17 18 lo leggiamo allora seconda corinzi 4 17 infatti la nostra leggera frizione non è solo per il momento produce in noi un misurato eccellente peso eterno di gloria quindi mentre abbiamo lo sguardo fisso non le cose che si vedono ma quelle che non si vedono perché le cose che si vedono sono solo per un tempo ma quelle che non si vedono sono eterne quindi non non dobbiamo vedere ciò che gli occhi vedono ma dobbiamo guardare per fede oltre lo vediamo però sappiamo benissimo che ci sono dice ancora questo è scritto in primi scritti pagina 34 38 oppure esperienze insegnamenti pagina 60 o 70 da 60 a 70 dice ancora questa la sorella Goldwine si trova a Maine a Portland sarebbe in America dice guardai per vedere gli avventisti e non vide nessuno ma una voce mi disse guarda più in alto guarda ancora più in alto per quella via si incamminarono su un sentiero stretto ma c'era una luce magliante che li seguiva fin dall'inizio del sentiero affinché non inciampassero ma presto alcuni si stancavano dicendo che la città era troppo lontana allora Gesù si incoraggiava sollevando il suo braccio destro con la quale scatturiva una luce che ondeggiava sugli avventisti questi cantavano Alleluia altri negarono quella luce e diciamo che la città è troppo lontana e li aveva condotti così lontani affinché non ci credevano e cadevano sottostante su questa terra subito sentimmo la voce di Dio quelli che sono salvati dice simile a un rumore di altre acque che circondava il giorno e l'ora della venuta di Cristo Gesù i santi viventi in numero 144.000 conobbero inteso la voce sulla loro fronte era scritto Dio nuova Gerusalemme ben presto i nostri occhi furono attratte a Cristo dove apparve una piccola nuova nera grande come una mano e dentro allora grande come una mano e man mano che si avvicinava diventava sempre più luminosa splendente e magnifica fino a che non divente una grande nuova bianca il fondo sembrava un fuoco al di sopra si spiegava un grande arcobaleno mentre tutto intorno stavano vicini di migliaia di angeli che cantavano con un amoroso canto sopra di esse sedeva il figlio dell'uomo sedeva Cristo Gesù dice i suoi capelli erano bianchi lunghi e ricciuti sulla testa aveva diverse corone i suoi piedi l'apparenza del fuoco nella sua mano destra una voce tagliente il leone di giuda nella sua sinistra una bomba una trombola argenta l'agnello per i suoi figli allora tutti gridarono chi potrà resistere la mia la mia veste senza macchia pochi angeli cessavano di cantare per qualche tempo un terribile silenzio quando Gesù parlò disse quelli che hanno pure le mani e pure il cuore potranno rivestire la mia grazia è sufficiente per loro Gesù all'apostolo Paolo ha dovuto dire anche se era cieco c'era i problemi agli occhi ha dovuto dire la mia grazia ti basta vai e racconta la tua esperienza agli altri e questo è ciò che i 144.000 avranno in quello stesso momento quando andranno nel regno celeste dice tutti erano vestiti di un abito bianco e sul mare di cristallo marciarono verso la Padre della città Gesù sollevò il suo potente braccio aprì la porta e disse rivolta a noi voi avete lavato le vostre vesti nel mio sangue avete lottato inflessibilmente per la verità entrate noi entrammo tutti e sentimmo di avere un perfetto diritto della città qui vedemmo l'albero della vita dal trono scatturiva un fiume d'acqua pura e l'albero della vita era in parte uno accanto all'altro e il fiume in mezzo sembravano due alberi però vedendoci bene dice la Sarah White alla cima era un albero non erano due quindi dice e noi dobbiamo guardare questo dobbiamo guardare il fiume celeste è vero che c'è un fiume terreno dove è la mia vita ma quando poi avverrà che vedremo questo frutto celeste questo albero che dà il frutto una volta ogni mese 12 frutti e questi frutti sono buoni nel senso che non fanno del male e allora vedremo molto ma molto diversamente questa visione io l'ho abbreviata perché insomma sono dieci pagine e sono un po' lunghi vi consiglio di leggere di leggere di leggere perché è bello comunque per concludere dice la Sarah White scrive in questo modo dice vedi un tavolo d'argento puro malgrado fosse lungo parecchi chilometri non metri chilometri come il qua non so a Giuliavola parecchi chilometri dice i nostri occhi potevano vedere fino alla fine sapete cosa significa? un tavolo lungo chilometri io vedo a chi sta all'altra parco questo dice la Sarah White cioè gli occhi con gli occhi dice vedi il frutto nell'albero della vita la manna le mandorle le grane grappolo di uva e molti altri tipi di frutta chiesi a Gesù di farmi mangiare quel frutto ma gli disse non ora quelli che mangiano il frutto di questo luogo non tornano mai più sulla terra fra non molto se sarai fedele mangerai il frutto dell'albero della vita e berrai l'acqua della fonte tu adesso vai un'altra volta sulla terra e racconti le esperienze racconti ciò che tu hai visto nel cielo questo era il comando dell'angelo la sorella White la conosciamo tutti ha dovuto scrivere dei libri quasi alla sua altezza per concludere questo è ciò che abbiamo così visto il fiume terreno mentre su ci sarà un fiume spero che tutti quanti noi andiamo sul regno celeste e cercare di vedere questo fiume con l'albero della vita infatti in Apocalisse 3.21 anzi lo leggiamo dopo leggiamo prima questa testimonianza dice i santi dovranno affrontare molte difficoltà cioè non è il discorso che il fiume cammina dritto e basta no ci sono più veloce più calmo i tronchi d'alberi questi che guardano questo non è altro che la nostra vita mentre se guardiamo il fiume che è nel cielo non c'è moto non c'è presidenza non c'è niente tutto tranquillo dove ci sono i frutti della vita dice ancora ho cercato di prepararvi un rapporto positivo e a portarvi qualche grappolo d'uo come è successo in Canaan dove c'era Cale e Giosuè per portare un grappolo d'uo c'erano due persone non la portavo soltanto due persone perché era troppo grande puliamoci un po' l'uva nel regno celeste dice quando torniamo dal paese di Canaan ma vi dichiaro fratelli e sorelle in Cristo che è una bella terra e possiamo prevedere il possesso cioè lo possiamo anche fare noi il possesso possiamo essere principi possiamo essere coloro che eritireranno questa terra infatti in Apocalisse 3 21 e dice come sempre a chi vince concederò di sedere con me sul mio trono come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere nel padre mio nel regno di Cio quindi possa il Signore aiutarci affinché un giorno possiamo essere così rirenti perché noi viviamo un po' la porta è aperta stanno avvenendo parecchi avvenimenti terremoti pestilenzi questo e quell'altro queste cose devono avvenire però se vinciamo come ha vinto Cristo e facciamo del nostro possiamo ridare questo regno che il Signore se lo possa congere in grazia ameno amato padre tu che vivi nell'altro nei cieli qui in mezzo a noi veniamo a te inginocchiando queste ginocchia premiti Cristo affinché noi possiamo così comprendere che tu sei il vero grande Dio e a te appartiene ogni cosa sia la terra sia creato sia tutte le acque Signore poiché a te appartengono a te appartiene anche l'umanità Signore poiché noi possiamo così comprendere tutto questo che dipendiamo da te e che tu ci possa donare soprattutto lo Spirito Santo delle acque pure oneste e limite affinché possiamo combinare secondo i tuoi comandamenti le tue leggi le tue prescrizioni e riconoscere parti che sono giuste e buone e sante venireci in questo luogo fa Signore che tu possa venire anche tutto il mondo intero affinché gli occupatori farai i pastori possano così divulgare l'Evangelo e che tu possa ritornare quanto prima e ti prego anche che ognuno di noi possa prepararsi in questo affinché possiamo così essere coloro che mandano il tuo messaggio a tutte le genti e che tu ritornerai quanto prima affinché noi possiamo così eredare quel regno eterno che tu ci stai preparando ti prego aiutaci guiderci e fa Signore che possiamo così soprattutto dare la nostra vita a te come tu l'hai fatto per noi Padre Santo non ti chiedo più niente ma fa Signore che tutto sia fatto secondo il tuo rete e secondo il Santo abletto montato te lo chiedo nel nome per ammettere Cristo che con te Padre e lo Spirito Santo siete consagrati ora e sempre in secoli e secoli Amen l'Eterno l'Eterno ti benedica e ti custodisca l'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia profizio l'Eterno rivolga il tuo volto su di te e ti dia la pace Amen Amen